No, non puoi perché hai una mano sui tuoi, perché continuo, questa è la zona più rapida, più vicina, sei un uomo, ecco. Sto tornando là, però fino a quando trovo qualcosa qua, guarda, se qualcuno me lo schiene mi viene veramente questo qui, non vado a girare, stai a volerla. Grazie a tutti.